Ciao ciurma, benvenuti sul mio canale. Oggi vi farò vedere le 10 possibili risposte alla domanda perché hai fatto tardi. Andiamo al video. Mi si è bugata la ruota della macchina e ho dovuto cambiarla. Ma io non sono in ritardo, sei tu che sei in anticipo. Ho incontrato Francesco e Pasquale e mi hanno invitato a prendere un caffè, non potevo rifiutare. Mi hanno fermato i carabinieri. Il mio cane si è mangiato le chiavi della macchina. Il mio gatto mi ha nascosto la macchina. Ho dimenticato dove abiti ma soprattutto chi sei. Ma perché avevamo un appuntamento, ci dovevamo vedere. Ho aiutato Morgan a cercare il buco. Non riesco a stare dietro al tempo, è troppo veloce. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like se arriviamo almeno a 100 like. Prenderò un'altra domanda e vi darò altre 10 risposte. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo con i vostri amici e ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!